Ma viventi di nuovo in azione in passeggiata al Lido di Camaiore per il terzo weekend di fila. Venerdì notte i ladri hanno preso di mira il ristorante Universo 24, locale per il quale ormai queste incursioni sono diventate un'abitudine. Stavolta non ce l'hanno fatta ad entrare ma nelle scorse settimane un furto era andato a segno. Un bottino di pochi spiccioli nella cassa che però sommati ai danni procurati stanno diventando un peso non indifferente per l'attività di ristorazione. Si tratterebbe di una banda di giovani, forse addirittura minorenni. Questo non lo sappiamo per certo, ci pensano le forze dell'ordine a portare avanti le indagini. Noi sappiamo che però ci ritroviamo questi danni, questi atti vandalici perché poi non è che fanno dei gran furti, più che altro sono i danni che fanno alle aziende qui sulla passeggiata. I ladri in questi ultimi weekend hanno colpito più o meno con le stesse modalità anche altri esercizi come l'osteria del mare e del punto pizza. La polizia sarebbe sulle tracce della banda di ristoratori. Si augurano che la situazione possa essere risolta al più presto.